Buongiorno. Buongiorno. Ma il nostro canale è stato un po' di capire, Perché sono un po' di capire, ma non ho fatto. Non ho fatto un po' di capire, ma non ho fatto un po' di capire. Ma non ho fatto un po' di capire. Non ho fatto un po' di capire. Anche le volte? Ecco. Ora il resto è un po' di capire. Ma bene. Non ho fatto mai. Non ho fatto un po' di capire. Non ho fatto un po' di capire. Ma si può fare un po' di capire. Anche le volte! Grazie a tutti. Grazie a tutti.